Abba Cadabra, magia tra arte e archeologia, è un progetto collaborativo rivolto al riutilizzo creativo di materiali dismessi, in particolare le vecchie cassette che originariamente contenevano reperti dagli scavi storici nel Museo di Sibari. Questa iniziativa è nata dalla partnership tra il Museo Nazionale Archeologico della Siberitide e l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e rappresenta un significativo passo verso l'attualizzazione del patrimonio culturale. I materiali da dismettere, cioè le vecchie cassette che hanno contenuto i reperti degli scavi storici, quelli della scoperta della grande Sibari negli anni 70, quelli degli scavi guzzo, del parco del cavallo, di prolungamento strada, il momento nel quale è venuta fuori stombi, il parco dei tori. Un gruppo di studenti ha lavorato intensamente per settimane trasformando queste cassette in nuovi supporti, sedute e installazioni artistiche, dimostrando non solo un notevole impegno nel riciclo di materiali, ma anche la capacità di creare connessioni tra passato e presente. Noi siamo veramente grati al dottor Gemma perché ha inteso riconoscere alla nostra istituzione una progettualità che oggi vivremo collettivamente. L'idea è stata quella di riutilizzare qualcosa di dismesso. Quali tecniche avete utilizzato? Innanzitutto le tecniche provengono dal forte sviluppo creativo dei nostri allievi. Il valore alto era quello che avevano rappresentato le cassette. Tra gli istituti coinvolti anche il liceo artistico di Rossano. Anche per dare la possibilità alle nostre alunne e ai nostri alunni di mettere in risalto le loro potenzialità e la loro immensa creatività. Un'occasione per i ragazzi interessanti, perché soprattutto hanno lavorato insieme a studenti dell'Accademia delle Belle Arti. L'iniziativa può essere un modello per altre istituzioni culturali in Calabria e al di là, creando una sinergia tra patrimonio culturale, ecologia e creatività giovenile.